Invece dall'altra parte, ultimi secondi dei 24, però buon tiro costruito! Rete! Spisso approfitta di un tamponamento con relativa caduta di un paio di avversari per il canestro del meno 7. Altra scivolata, come nel primo tempo era successo a Pierre, stavolta succede a Luca Vittali. Cameriere! Di Spisso, che va fino in fondo per il nuovo più 10.